La love story tra Serena e Nardu e Pago sembra essere in crisi. Da settimane i due non si mostrano insieme e frequentano ambienti diversi, alimentando i dubbi sullo stato della loro relazione. Non è escluso che sia giunta al capolinea. Serena ha dichiarato di dover chiarire le idee prima di parlare della sua situazione sentimentale, mentre ha coinvolto la sua amica avvocata Monica Pugioni in alcune storie su Instagram per affrontare la questione. La domanda su una possibile rottura con Pago è stata posta da un utente e Serena l'ha girata all'avvocata, che ha risposto in modo enigmatico, suggerendo che la curiosità rende la vita interessante. Questo potrebbe far pensare che tra Serena e Pago ci sia stata un'altra rottura, ma in modo non drammatico. Pago, noto per il suo silenzio, non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione, mentre Serena sembra giocare con l'attenzione dei social per creare hype. È importante fare attenzione a non alimentare il gossip, poiché ciò potrebbe portare a conseguenze indesiderate. Mentre la situazione tra Serena e Pago rimane incerta, resta il consiglio di non giocare con il fuoco delle voci di corridoio. La coppia sembra attraversare un momento difficile, ma è fondamentale evitare di creare aspettative e confusione sulle proprie cose.